Siamo con Marco Del Lungo, fresco di vittoria dello Scudetto, una difesa implacabile, inossidabile, avete battuto il Brescia e siete ancora campioni d'Italia. Sì, è una grande emozione, è stata una grande battaglia queste due partite, soprattutto anche l'ultima, vedendo anche il pubblico caloroso di Brescia, è stato veramente un gran play-off, è giocato nel migliore modo possibile e è anche una grande dimostrazione di tutta la squadra di voler arrivare all'obiettivo. Importante l'apporto che avete dato, avete chiuso in due gare la pratica e poi soprattutto un altro messaggio importante è quello del fatto che sia stato nominato MVP di questa finale Scudetto. Sì, è una cosa che mi fa molto onore, ringrazio tutte le persone che hanno fatto il mio nome votandomi e è stato veramente, per me è un grande sintomo di orgoglio perché significa tanto per tutto quello che ho fatto per quanto riguarda gli allenamenti e i sacrifici in questo periodo. Marco, solamente sette gol subiti in due gare contro il Brescia, un dato incredibile. Dove nasce il sereto di questa Prorecco con questa difesa importante? Tante ore ovviamente spese in piscina per poter fare in modo che tutto possa funzionare con Sandro Zucno e ovviamente tanta applicazione. Sì, il frutto nasce da tanta dedizione e tanto sacrificio in questi mesi di lavoro da inizio settembre fino ad oggi dove ancora non abbiamo concluso il nostro cammino. C'è tanto ancora lavoro da fare, migliorare ancora qualche piccolo dettaglio. E' soltanto merito di un gruppo che vuole continuare a crescere, vuole continuare a dimostrare il suo vero valore sia in campo nazionale che internazionale. E non è ancora finita perché come vi annunciavi ci saranno queste finali di Champions League e qui anche il Brescia vorrà darvi l'assalto, quindi tutti vorranno sconfiggere la Prorecco. Esattamente, vorranno finalmente scotestarci da questo ambito premio dove la Prorecco vuole sempre arrivare e sicuramente saranno tutti quel cortello fra i denti e saranno battaglie ad altissimo livello.